raga questo video è pericolosissimo allora io sono su un albero e vedo sonic che sta facendo delle cose in tipo sembra una mezza casa distrutta e io ora vorrei avvicinarmi a casa sua ora tecnicamente lui dovrebbe andarsene perchè sta spammando le mie teste in giro allora adesso entro nella casa per vedere un attimo ma non mi devo far vedere assolutamente da lui ok vedo che sta spammando delle teste perfetto allora che caspita ok sembra che ci sia del sangue per terra e tracce matiche che vuol dire sangue carne umana che schifo e poi testa di duni no 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 questa cosa è orribile raga ma c'è che schifo assurdo e poi lui è andato credo qua perchè io vedo della lava porca raga stavo per farmi vedere assurdo assurdo no 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 questa cosa qua stava per letteralmente uccidermi perchè se lui mi vede mi fa fuori non mi deve vedere dobbiamo perchè effettivamente lui sembra che abbia un segreto ok ha oltrepassato questa cosa allora io direi di andare senza farci vedere però perchè lui appunto non deve sapere che noi siamo all'interno del suo mondo cioè sonic non deve sapere che noi siamo qui dentro raga assolutamente e sta facendo tipo le tnt aiuto io qua non so fare ste robe ok perfetto le tnt io ho un problema con le tnt raga dovete sapere questo e no mi son buggato aiuto ok perfetto così ok andiamo filo muro non so cosa voglia dire però ok perfetto però finchè non c'è qui meglio allora così ok perfetto raga attenti eh perchè qua basta proprio una cosa piccola e si muore perchè qua le tnt esplodono e non ricordo sonic non deve sapere che noi siamo qui assolutamente nella maniera più assoluta ok qua sembra che ci sia un po' di lava perfetto aia il cactus fa male però in realtà poco importa cioè nel senso il cactus chi se ne frega porca puzzarda ma cosa stanno vedendo i miei poveri occhi cosa sono quelle che sono di nuovo le mie teste ma basta e perchè c'è dell'erba poi peraltro scusatemi perchè c'è dell'erba e c'è di nuovo del sangue ok perfetto allora io qua sto per scendere perchè questa cosa se non sapevate è un ascensore raga sono sceso però io qua non sto più vedendo niente cosa sta succedendo dove sono no oh no perchè ogni volta ci sono questi tunnel bui ah cos'è no non so cosa sia raga secondo è un drowned è un drowned cioè tipo uno di quei cosi no io io penso che sia sonic purtroppo io penso che sia sonic perchè ho questa strana strana presentimento oh mio dio no 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 disconnect perfetto ciao